Una ciclista di 28 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante in pieno centro a Milano. Il tutto è avvenuto poco prima delle dieci in Viale Caldara, in zona Porta Romana. Inutile l'intervento dei soccorritori. Sul posto vigili del fuoco e vigili urbani. La giovane è la quinta ciclista deceduta sulle strade milanesi quest'anno.